Abbiamo appena compiuto un anno e abbiamo già iniziato a parlare. Siamo atterrati in orario. A scrivere, anche le parole più difficili. A colorare, senza lasciare nemmeno un alone. A cucinare, e che piatti! E a contare fino a nove milioni. A un anno abbiamo già deciso per chi fare il tifo, a chi ispirarci, di chi essere orgogliosi. E abbiamo già imparato a camminare. Anzi, sfrecciare. A un anno abbiamo anche la nostra parola preferita. E grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Perché insieme quest'anno è proprio volato. ITA Airways. Le nostre ali siete voi.